ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad uno young guns il master pilot ebbene sì eravamo abituati a vederlo nella sua configurazione cronografo e adesso è uscita la versione solo tempo ma cos'è un pilot e perché è corretto poterlo considerare giusto in entrambe le varianti il pilot è un orologio dedicato all'aviazione ossia a colore quali pianificano il volo prima di partire appunto prima del decollo e calcolando che c'è un lasso di tempo da tenere quindi il lasso di tempo può essere calcolato sia con un cronografo che con un orologio solo tempo con la ghiera girevole io preferisco quelli con ghiera girevole così a voler essere precisi perché perché si vedono meglio i minuti e perché sono quelli che devono essere tenuti in considerazione non certo i secondi cronografici nel cronografo i minuti sono nel quadrantino piccolino quindi si fa un po più fatica in un pilot come questo che indosso è la ghiera che decide il tempo il lasso di tempo no da tenere presente adesso vi faccio dire anzi io vi faccio vedere anche cosa preferisco io questo qua chiaramente l'orologio del giorno che è il mio bellissimo orologi calamai mc 72 che è un orologio d'aviazione anche questo quindi c'ha però questo qua alla ghiera interna vedete e io cosa preferisco fare preferisco impostare il 50 sulla sfera minuti e il triangolino lo utilizzo come conto alla rovescia preferisco in questo modo mi torna meglio in questo modo so che il conto alla rovescia è 10 minuti e quando raggiungerà il triangolino io avrò esaurito il tempo e dovrò trovare il riferimento del piano di volo questo è quanto è più intuitivo ho deciso di portarlo sul canale perché era un po che non parlavo di young guns e poi in particolare questo modello esula un pochino degli stilemi classici di young guns no il bow house che siamo abituati a vedere in questo caso completamente differente quindi ho pensato bene di portarlo sul canale anche se il total black non mi fa impazzire a me devo essere sincero non sono gli orologi total black quelli che i miei preferiti chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dall'amico giacomo titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale e mi mette a disposizione gli orologi che mi garbino come si suol dire lui è concessionario ufficiale la gioielleria e quindi a disposizione questi orologi chiamateli per avere informazioni sui prezzi e soprattutto anche su altri brand perché una 30 cinquina no poi essendo partner del canale ormai lo sapete io vado la sfarfuglio in mezzo agli orologi come fosse a casa mia adesso guardiamo giriamo la camera diamo un'occhiata a questo bellissimo maister pilot tedesco e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali l'insieme delle misurazioni ha il compito di delineare le proporzioni e i risultati sul campo ci dicono diametro 42.2 mm spessore 12.1 ingombro trasversale al polso 49.5 e interasse ansa da 22 mm stiamo comunque parlando di misure che per un pilot sono lo standard 42 mm quadrante esteso e lag to lag importante una sorta di evoluzione dei noti flieger e come orologio d'aviazione va considerato devo menzionare il fatto che nelle specifiche della casa viene definito come 43.3 mm in realtà questa è la misura massima presa agli spigoli della ghiera ma la cassa sottostante e le rientranze della ghiera stessa ci dicono 42.2 stilisticamente parlando non è un orologio che si rifà agli stilemi del passato e la contemporaneità è ben presente in ogni elemento che vediamo a cominciare dalla pigmentazione total black dell'insieme generale la colorazione è frutto del procedimento dlc ossia diamond like carbon in parole povere si tratta di un trattamento pvd che consente di avere una superficie più resistente all'usura e la corrosione oltre a questa particolarità c'è poi da sottolineare la particolare forma della cassa con ansi longiline e quasi filiformi e lato carur molto rastremato questa è una caratteristica molto ricorrente negli jungans che consiste nel creare uno scivolo molto accentuato verso il fondello in questo modo il lato cassa appare molto sottile e lo spessore necessario a contenere il calibro si trova relegato esclusivamente al fondello che rimane però nascosto alla vista un design che permette di percepire uno spessore notevolmente inferiore a quello reale e che è da sempre apprezzato nei cronografi della casa in questo caso trattandosi di soli 12 mm di partenza il risultato è ancora più efficace e ci restituisce un orologio dall'aspetto alquanto sottile perlomeno per il genere a cui appartiene teniamo poi presente che l'esiguo profilo laterale della cassa è dovuto anche alla presenza della ghiera un elemento che siamo abituati a vedere sui diver ma che in un pilot svolge una funzione differente il suo compito è quello di pianificare il volo in modo da avere riscontri temporali concatenati prima del decollo si traccia il percorso e si calcola che ad una data velocità si incontreranno dei punti di riferimento precisi magari dopo sei minuti di volo si incrocerà un fiume e dopo altri tre un agglomerato urbano ecco che puntando il triangolo sulla sfera minuti si possono calcolare quei sei minuti e verificare così se il percorso è corretto o no magari c'è un malfunzionamento negli strumenti di bordo e un orologio di backup può far comodo dato lo scopo la ghiera è correttamente bidirezionale ed è fluida senza scatti in modo da poterla utilizzare velocemente in ambo le direzioni oppone comunque una certa resistenza alla rotazione fatto che la rende alquanto sicura in caso di urti accidentali da segnalare le ergonomiche scanalature presenti che la rendono facilmente utilizzabile e che caratterizzano stilisticamente l'intero aspetto qui si va oltre lo stile Bauhaus che siamo abituati a vedere un orologio che si pone al di fuori dei cliché di Junganz si pone in maniera più aggressiva pur mantenendo il fine ultimo della funzionalità lo si evince anche dal quadrante con quei numeri arabi bianchi in stile prettamente moderno e dalla finestra data d'ore 12 che ha la particolarità di essere a spicchio il fatto di poter visualizzare sia la data precedente che quella successiva facilita la compressione istantanea occorre però evidenziare che solamente le cifre dispari sono rappresentate graficamente quelle pari vengono sostituite da una stanghetta rossa molto efficace a livello visivo meno a livello immediato occorre farci l'abitudine come contropartita troviamo la secondina ad ore 6 che graficamente riprende il rosso visto del datario mi piace la scelta dei piccoli secondi la trovo di mio gradimento anche su di un orologio moderno inoltre va a sgombrare il campo da interferenze in quanto non disturba le due sfere principali come potrebbe farlo un secondo i centrali da apprezzare anche la curvatura del quadrante principale che lungo il rio si inclina tondeggiante fino a scomparire questo effetto ci restituisce una certa profondità che viene poi accentuata dal fatto che il sub dial è inscritto in un recesso del quadrante stesso apparendo a sua volta in profondità ad evidenziare la differenza c'è poi il risultato di due differenti scelte cromatiche nero per la secondina e blue navy per il quadrante principale una finitura finemente granulosa che degrada verso il nero a bordo quadrante e il tutto è perfettamente visibile grazie al vetro zaffero che gode di un doppio trattamento antiriflesso veramente efficace nell'insieme si tratta di un orologio che eccelle in leggibilità ed equilibrio delle forme datario e secondina ai due estremi ed indici con accenti rossi ad ore 3 e 9 questa decorazione colorata allo scopo di emulare l'indicatore di assetto orizzontale della strumentazione aerea e fa il paio con il fondello sul quale è riportata la grafica di un aereo ad elica visto frontalmente scelta apprezzabile in luogo dell'onnipresente fondello trasparente e qui vi è da notare il fatto che il fondello è fissato alla cassa tramite l'utilizzo di sette viti di cui ben due nei pressi della corona di carica a pressione un sistema che riesce a garantire una impermeabilità dichiarata di 100 metri più che adeguata all'utilizzo del master pilot non ho ancora parlato del calibro il j800.1.6 che altri non è che un età 28 25 la versione con piccoli secondi del famoso 28 24 c'è poco da aggiungere se non che si tratta di un movimento utilizzato da anni da più disparati marchi ne ho parlato decine di volte e per i meno informati suggerisco un approfondimento in autonomia ottima poi la resa al buio grazie ai numeri ben presenti e grazie al fatto che anche la minuteria sul reo gode di pigmento luminescente molto importante che anche il triangolo sulla ghiera possa fungere da riferimento in assenza di luce non resta che parlare del cinturino in pelle la cui particolarità è quella di essere blu scuro sulla superficie esterna e nero all'interno è molto morbido anche da nuovo e pare di qualità eccellente con superficie levigate e cuciture particolarmente curate ci sono poi dei tratti stilistici che lo diversificano rispetto al solito grazie al tocco di gusto dato da quei due rivetti in acciaio pvd che si mimetizzano con il riporto di pelle nera nei pressi delle anse l'idea è quella di robustezza e spessore che tra l'altro fa apparire meno distante la cassa a contrasto troviamo poi quelle in punture bianche rosse che riprendono gli accenti ad ore 3 e 9 un abbinamento che trovo piacevole la chiusura è quella classica a fibia ed ardiglione entrambi in acciaio ed entrambi con la stessa finitura della cassa possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali un orologio dalle dimensioni coerenti con lo scopo e con la funzionalità a cui è dedicato e che nel suo vestito nero appare anche meno ingombrante di quanto possa sembrare a grandi linee ad occhio nudo punti deboli e punti forti secondo me è l'aspetto estetico è il suo punto debole è il suo punto forte se piace è un orologio che va a diversificare la collezione che ha una forte identità però deve piacere perché è anche comprensibile che a qualcuno non piaccia totalmente poi buona la leggibilità anzi ottima la leggibilità ottima la luminescenza buona l'impermeabilità di 100 metri meno buona la finestra data con le stanghette in luogo dei numeri pari e se vogliamo anche la ghiera girevole senza alcun blocco senza alcuno scatto anche se abbastanza resistente a tal proposito io preferisco gli orologi magari preferisco per quel fine lì no preferisco gli orologi con la ghiera interna girevole come calamai mc 72 è meno incline allo spostamento casuale anche se volendo proprio essere precisi cioè uno tocca la corone si muove anche la bag interna però almeno più protetta rispetto a quella esterna no un urto potrebbe fare cambiare il tempo di riferimento però come vedete voi sono anche dei andare a cercare il pelo nell'uovo cioè un orologio ben fatto di qualità eccellente e secondo me è consigliato boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero che vi sia piaciuto il video e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao